Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del Let's Play di Minecraft. Nella scorsa puntata siamo andati nel land per costruire una farm di Chorus Fruit, farm totalmente AFK che ci darà la possibilità di ottenere tantissimi frutti e soprattutto tantissimi blocchi di Chorus per fare diverse costruzioni. Prima di iniziare voglio raccontarvi una cosa. Qualche giorno fa sono stato intervistato su Radio Blu Italia, una radio che trasmette in Australia ma che è possibile anche ascoltare in diretta attraverso la web radio oppure indifferita attraverso dei podcast. In questa intervista abbiamo parlato un pochino della mia vita, di YouTube, della mia attività su questa piattaforma e di altre cose interessanti. Se volete riascoltare l'intervista vi lascio tutti quanti i link in descrizione. Ovviamente voglio ringraziare prima di tutto Luigi che è un mio fan che mi ha contattato qualche giorno fa dicendomi tech guarda io ho un programma alla radio vorrei averti come ospite per fare un'intervista quindi grazie davvero Luigi e ovviamente voglio ringraziare anche Radio Blu Italia per avermi lasciato questo spazio. Oggi ho da mostrarvi ben due novità in questa vanilla perché come sapete ultimamente sto cercando di rinnovare un pochino la serie introducendo anche delle novità. Per esempio abbiamo introdotto recentemente questa editor wand che mi permette di modificare le armor stand e quindi creare dei veri e propri manichini da mettere in varie posizioni. Ebbene oggi ho installato due nuovi resource pack uno che va a modificare le foglie degli alberi e le rende un pochino più realistiche però adesso andiamo a vedere e l'altra invece che va a modificare i libri incantati e anche la nostra spada incantata. Iniziamo a vedere proprio quella vi faccio vedere la mia spada adesso ragazzi guardate qua che figata la spada ha le fiamme guardate che roba anche nell'inventario è davvero bellissima e tutti quanti i libri incantati adesso hanno una texture e un'animazione differente a seconda dell'incantamento che contengono. Qua abbiamo blast protection c'è questa specie di barriera questo è di un altro colore ed è deep strider perché appunto ci permette di andare sott'acqua diciamo che in questa maniera è davvero molto più semplice identificare i vari libri guardate anche questo effetto a me piace davvero tantissimo ragazzi quindi vorrei che mi deste anche voi un giudizio su questo resource pack vi lascio anche questo in descrizione così potete provarlo guardate che roba questo con le bollicine secondo me ci può stare ci può stare ovviamente è compatibile con la 1.14 nella 1.15 non so se sono stati introdotti nuovi incantesimi ma credo che il creatore andrà poi ad aggiornarlo eventualmente il secondo resource pack va invece come vi dicevo a modificare le foglie degli alberi attenzione ragazzi modifica non solo l'aspetto ma anche il colore come vedete andiamo a vedere queste aggiunge queste parti di foglie che le rendono meno a forma di cubo sostanzialmente assomigliano un po alle foglie che si ottengono quando installate la mod better foliage e invece per quanto riguarda le betulle come vedete ci sono le foglie ingiallite secondo me non è male bisogna abituarsi un pochino però non mi dispiace per questo voglio che mi scriviate un commento per dirmi cosa ne pensate se devo tenerlo se devo tornare a quello originale eccetera eccetera questa è la nuova texture per quanto riguarda le foglie della giungla vedete che anche queste hanno questo effetto un pochino che le rende più cicciottose se vogliamo i colori credo che questi non siano stati modificati erano leggermente diverse perché là siamo in un altro bioma non è il bioma della giungla ma qua dentro vedete non stanno affatto male sono un pochino più realistiche però voglio comunque la vostra opinione per decidere se mantenerle oppure ritornare a quelle originali ma veniamo a quello che volevo fare oggi mi scuso a priori se questo episodio sarà un pochino più corto del solito ma tra poco avrò ospiti a casa e quindi devo chiudere al più presto la registrazione montare il video fare la miniatura e caricare tutto quanto come vedete qua siamo nel mio magazzino che tra l'altro sta per essere completamente pieno perché mi rimangono libere solamente queste due ceste poi dovremmo pensare ad ingrandirlo la cosa che andremo a fare oggi è qualcosa di davvero sfizioso come ben sapete dalla 1.14 sono stati introdotti dei nuovi blocchi che vanno in parte a sostituire la crafting table o meglio danno delle funzionalità che ora non sono più possibili all'interno di quest'ultima sto parlando per esempio del telaio per modificare i banner oppure per il tavolo che si usa per modificare le mappe e così via ebbene qui nel mio magazzino ho solamente questa crafting table ma mi piacerebbe avere a disposizione tutti questi tavoli quindi oggi andremo a creare un meccanismo tale per cui avremo a disposizione tutti questi nuovi tavoli direttamente in un solo blocco ed ecco qua i blocchi che andremo a utilizzare nel nostro meccanismo il cartography table per le mappe il telaio per i banner la stone cutter per i mezzi blocchi e gli scalini ovviamente per risparmiare anche della pietra e la classica crafting table ci sono altri due blocchi messi a disposizione da minecraft che sono la flashing table e la smiting table che però al momento non hanno nessuna funzione quindi non li andremo a utilizzare all'interno del meccanismo e poi c'è anche la grindstone che serve per togliere gli incantesimi ebbene quel blocco come anche per le fornaci per le ceste i barili non è possibile spostarlo attraverso un pistone e quindi non potrà essere utilizzato nel meccanismo ritengo comunque che questi siano i quattro blocchi più utili per fare praticamente tutto quanto quindi va bene così andiamo adesso a vedere dove andremo a costruire il meccanismo allora ho deciso di fare questo meccanismo proprio in questo punto dove abbiamo già la crafting table che andremo a togliere quindi dobbiamo fare un bello scavo qua dentro fare tutta la parte con la redstone e poi andare a rimettere tutto quanto come prima vedrete è qualcosa di davvero molto molto utile che sono sicuro utilizzerete anche nei vostri mondi lasciatemi quindi qualche istante sistema tutto quanto iniziamo ed ecco qua lo scavo per il nostro meccanismo non molto grande però come vedete qua siamo un po in piccatini con lo spazio perché qua abbiamo un altro meccanismo ragazzi casa mia è veramente un disastro allora andiamo a posizionare i primi blocchi mettiamo qua e mettiamo un altro blocco qua qui andiamo a mettere redstone normale e qui andiamo a mettere un repeater che andiamo a posizionare così poi andiamo a craftare una torcia di redstone quindi la vado a preparare eccola qua e poi andiamo a prendere questo e i pistoni allora questo lo posizioniamo così questo blocco in modo da avere questa cosa qua sopra andiamo a mettere un pistone appiccicoso qua una torcia di redstone su questo blocco qua qui andiamo a mettere un observer che guarda la torcia di redstone quindi andiamo a metterlo così quindi credo in questa maniera per guardarlo vediamo se è vero sì che guarda la torcia sopra questo observer qua andiamo a mettere un altro pistone questa volta normale non appiccicoso infine da questa parte andiamo a mettere blocco di cobblestone e sopra della redstone che sarebbe per muovere questo pistone poi procediamo con la redstone qua andiamo a mettere questi blocchi qua dovrò scavare ancora un pochino quindi vado ad allargare ok vediamo di togliere questo togliamo anche questi due va bene faccio così non importa voi non guardate che non sto usando la pala non avete visto niente perfetto poi mettiamo redstone e andiamo a prendere anche questo così lo posizioniamo quindi redstone qua redstone qua qui andiamo a mettere un repeater e qua dobbiamo andare a mettere questo ritardo al repeater poi qua ci serve un'altra torcia di redstone quindi così ok e qua andiamo a posizionare il secondo pistone appiccicoso rivolto verso l'alto che sarà il pistone che terrà il blocco che andremo a utilizzare per il momento metto la lana rossa che sarà il blocco che farà da tappo diciamo che in questa maniera dovrebbe confondersi con il resto del pavimento che c'è in questo punto ora qui andiamo a mettere della cobblestone e sopra mettiamo un pistone rivolto verso questa direzione poi qua andiamo a mettere altra cobblestone qui mettiamo un repeater con il massimo ritardo possibile e qua andiamo a mettere un pistone rivolto verso di me in questa direzione qua andiamo a creare adesso un body switch quindi mettiamo un blocco di cobblestone qua qua andiamo a mettere un observer che guarda qua sotto in modo che veda quando si muove quel pistone quindi messo così e qua sopra andiamo a mettere un altro pistone in pratica ho creato il meccanismo per far ruotare ogni volta che andremo a premere un pulsante che adesso andrò a mettere tutti quanti i vari blocchi che metteremo all'interno allora il blocco con sopra il bottone sarà questo qua che sta esattamente al centro pertanto togliamo pure questi blocchi mettiamo qua sotto della cobblestone così qua andiamo a togliere anche quest'altro blocco e mettiamo la redstone così ok ragazzi ci siamo adesso dobbiamo andare a prendere i nostri blocchi che abbiamo preparato prima e li andiamo a posizionare tu resta qui ma no non devi cestinarti non entra nel buco non entra nel buco resta lì mamma mia se entra qua dentro ragazzi è la fine non lo tiro più fuori allora andiamo a sistemare adesso tutti quanti i blocchi direi di partire dalla nostra crafting table quindi li preparo tutti qua la mettiamo qua sopra poi qua sotto andiamo a mettere il blocco di lana rossa poi qua a fianco andiamo a mettere questo cartography table che vorrei mettere così perfetto poi voglio la nostra stone cutter che mettiamo così perfetto e qua andiamo a mettere il telaio allora vorrei che fosse rivolto dovrebbe ruotare così quindi in questa direzione anche se non si noterà tantissimo qua andiamo a mettere il bottone che ho già preparato eccolo qua e dovrebbe tutto quanto funzionare tu vai di là perfetto mamma mia quel coniglio lì se mi entra qua allora vediamo un po' se si sostituisce la crafting table con questo ok a no ok gira in questa direzione quindi qua abbiamo il nostro stone cutter poi abbiamo perfetto il telaio poi abbiamo il cartography table e poi abbiamo la nostra lana rossa perfetto ragazzi dobbiamo adesso solamente chiudere tutto quanto evitare che il coniglio entri e lavoro è fatto e voilà ragazzi ecco qua il nostro pavimento completo abbiamo salvato anche il coniglio mi piace davvero un sacco ok qui rimane questo piccolo scalino perché non posso metterci il tappeto ma non importa direi che già così è ben camuffato qua possiamo andare a sostituire tac crafting table quindi possiamo anche togliere questa che non ci serve più e mettiamo pure un blocco normale ok poi andiamo a fare così tac stone cutter possiamo mettere dentro questa fare i nostri blocchi perfetto poi abbiamo il nostro telaio per i banner e infine abbiamo il cartography table per le mappe ragazzi fantastico funziona tutto perfettamente in questo episodio voglio ancora mostrarvi una cosa mentre stavo provando il resource pack che modifica le foglie mi è venuta un'ispirazione e quindi ho creato un piccolo cortometraggio circa un minuto che racconta una passeggiata all'interno del bosco del mio mondo ho utilizzato sia le shaders che questo nuovo resource pack proprio per mostrarvi un minimo come rende all'interno del mondo ragazzi vi lascio a questo piccolo attacco d'arte e spero vi piaccia un'interno del mondo E dunque ragazzi siamo giunti al termine di questo episodio che è un pochino più corto del solito ma secondo me abbiamo fatto un circuito davvero molto interessante. Attendo nei commenti le vostre opinioni riguardo i due resource pack che ho installato e ovviamente come sempre vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi al canale e di passare a tutti quanti i miei social. E oggi vi invito anche a passare dal podcast con l'intervista che ho fatto questa settimana a Blue Italia Radio. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti! Grazie a tutti!